Bene, devo dire che siamo positivamente sorpresi perché ci aspettavamo grande professionalità, però sono andati anche oltre le aspettative da questo punto di vista. C'è grande disponibilità alla fatica, al sacrificio, quindi le premesse sono buone. Stiamo lavorando tanto e stiamo lavorando bene, però non è anche nella prima settimana dove ci sono stati molti volumi dal punto di vista fisico, però la palla è sempre stata una componente importante in tutti i giorni in cui siamo andati a toccare varie tematiche che interessavano particolarmente. C'è tanto volume, c'è tanta fatica, c'è anche delle sedute in cui c'è delle corse senza palla, però riusciamo ad integrare bene grazie a un grande lavoro dei nostri preparatori atletici. È molto importante saper leggere varie situazioni per diventare il meno prevedibile possibile contro avversari che ti studiano e che cercano in qualche modo di imitarti tutte le tue fonti di gioco e metterti in difficoltà. È fondamentale per noi avere un punto di riferimento così importante. Noi come staff, i ragazzi come gruppo squadra e quindi è molto concentrato, è molto serio, è molto carico in quello che sono poi dopo i nostri impegni prossimi. Lui è abituato a prendersi determinate responsabilità, lo fa con grande entusiasmo, con grande serietà, con grande senso del dovere, quindi dopo l'attaccamento che ha per questi colori è risaputo e non può fare altro che dare sempre un 1% in più ogni giorno.